Scusa, ciao, siamo ai tuoi occhi. Hai presente quelle due finestrelle? Quelle che ti collegano con il mondo in tanti modi diversi? È grazie a noi che puoi apprezzare la bellezza, mettere in pratica il tuo talento, vivere la vita da ogni punto di vista. Ma in cambio, noi cosa abbiamo? Non fraintenderci, non ce l'abbiamo con te. Sappiamo che ci vuoi bene. Vorremmo semplicemente che ce lo dimostrassi un po' di più. È evidente che sai come prenderti cura di te stesso, e a volte lo fai proprio bene, soprattutto quando qualcosa comincia ad andare storto. Ma non basta. Potresti pensare che stiamo bene, ma devi farci controllare di tanto in tanto, prima che vengano fuori problemi. Se aspetti, potrebbe essere troppo tardi e potresti perdere tutto questo. Quindi, come al solito, vorremmo farti vedere cosa fare. Cominciamo a sgombrare il campo da qualche luogo comune. Come l'idea che se riesci a vedere, noi siamo in perfetta salute. O che se ti sembra di non avere problemi, non hai bisogno di una visita. O che l'unico motivo per andare da un oculista è se hai bisogno degli occhiali. Tutto sbagliato. Vuoi dei fatti? Secondo le stime mediche, l'80% dei deficit visivi si può prevenire se ti prendi cura dei tuoi occhi come si deve. Per esempio, smettendo di fumare, mettendoti gli occhiali da sole, o facendoci fare un bagnetto ogni tanto. Ma soprattutto facendoti visitare regolarmente. Ci sono molti oculisti bravissimi. Quindi, perché non ne cerchi uno? Puoi capire quale problema hai, o individuarne uno potenziale. Così lo puoi risolvere. E non parliamo solo di disturbi alla vista, ma anche al cuore, diabete o rischi di infarto. Tutti questi problemi possono essere individuati prima, con una semplice visita oculistica. In altre parole, siamo una finestra sul tuo stato di salute generale. Quindi, perché aspettare? Bausch & Lomba ti invita a prenderti cura di noi. E tu dovresti proprio prenderti cura di noi. Fatti vedere. Prendi un appuntamento. Facci piangere di gioia. Grazie. 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 Grazie.